Un saluto a tutti amici di Cristiano Rui TV, che serata! Come ho titolato, una serata da vecchio Milan, anzi trattandosi di Manchester, una serata da old Milan. Una serata magica che ci ha ricordato la Champions del 2003, l'impresa col gol di Crespo, l'impresa con la doppietta di Ricky Cacana nel 2007. Una serata veramente da Champions League, la serata, l'atmosfera, il campo, anche il clima, con questa pioggia all'inglese ci ha ricordato tanto quelle imprese storiche degli anni d'oro del Milan. Questa sera la squadra di Pioli era rimaneggiatissima, praticamente non aveva cambi, non aveva attaccanti, eppure ha tenuto testa, anzi ha dominato a tratti il campo contro la seconda squadra di Premier League, quella che ha battuto la capolista City nel derby, non più tardi di quattro giorni fa. Davvero una lezione non solo di calcio, ma una lezione di mentalità di una squadra giovane, che è ancora molto molto imperfetta, ma che ha nel suo DNA la tradizione del vecchio Milan. Davvero una serata entusiasmante, il Milan era partito molto forte, non si meritava di perdere questa partita, perché ha giocato un primo tempo con una personalità eccezionale. È vero, il Manchester è andato vicinissimo al gol con Maguire, che ha colpito un palo incredibile. Ha colpito un palo che mi ha ricordato molto Shevchenko a Istanbul contro Liverpool, uno di quei pali che ti sembra che segnino il destino di una partita, di un turno, di una qualificazione, perché davvero ha sbagliato un gol clamoroso Maguire. Ma a parte quell'episodio, il Milan ha giocato un grande primo tempo, è andato più volte vicino al gol, ne ha segnati due. Non ho da recriminare tanto sul gol annullato per fuorigioco, giustamente, quanto su quello per il tocco impercettibile di Frank Si, che ancora adesso non ho capito se davvero l'ha presa con la mano oppure no. Però al di là degli episodi, Milan davvero molto bene nel primo tempo, a tutti i livelli, in tutti i reparti, ripeto, con una formazione molto rimaneggiata. Bene sale Maga sulla destra ad andare a tamponare tutte le iniziative, e molto bene Krunic reinventato esterno-sinistro, perché lui l'aveva fatto bene a Verona come trequartista, ma giocando esterno-sinistro ha fatto bene Diaz, anche negli spazi è entrato e ha fatto più volte male all'United. Devo dire la verità, non mi è dispiaciuto nemmeno Leao, che da solo ha tenuto testa agli avversari, su tutto il fronte d'attacco si è smarcato, ha preso botte, si è mosso. Secondo me ha fatto un ottimo primo tempo, un'ottima partita. Insuperabile la diga a centrocampo con la coppia May-Tekesi, e anche molto bene la difesa, soprattutto Chiair è stato un professore questa sera a Old Trafford, un po' meno bene Tomori impreciso, soprattutto sull'azione del gol del Manchester United. L'impianto di questa serata è aver regalato il gol al Manchester, perché il Milan è rimasto attento per 95 minuti, ma in occasione del gol dello United, nei primi 5 minuti del secondo tempo, il Milan ha un po' sbandato e purtroppo ha regalato il gol. In molti hanno dato la colpa a Gigio Donnarumma, io dico no. Il taglio di Allo è davvero molto leggibile, Tomori parte tardi, non riesce a recuperarlo e lo fa colpire indisturbato. Donnarumma, accortosi del ritardo clamoroso di Tomori, deve uscire e la palla gli passa sopra. Quindi io do un 75% di responsabilità sul gol a Tomori, solo 25% di responsabilità a Gigio Donnarumma. Molto bene anche gli esterni, Calabria, peccato che si è fatto male, speriamo che non sia nulla di grave e vi dico una cosa, è stato per il Milan paradossalmente un vantaggio non avere Teo Hernandez sulla faccia sinistra, ma avere Diogo Dalot che in questo momento, a mio giudizio, sta meglio del franco ispanico, soprattutto è molto più attento in fase difensiva e quando gioca sulla sinistra è il suo ruolo, è la sua posizione. Stasera grandissima partita di Diogo Dalot, ma in generale una grande partita di tutta la squadra contro una compagine nettamente più forte. Dopo il gol del Manchester io ho temuto che la squadra potesse avere un tracollo, che potesse subire e addirittura andare sotto pesantemente, anche perché in panchina, mentre il Manchester, che pure a qualche assenza, aveva delle carte da giocare, per esempio è entrato Diallo al posto di un appannato marziale nel primo tempo e Mila non aveva alternative. Si è fatto male Calabria e Mila ha dovuto inserire Calulu, che è entrato abbastanza bene in partita. Castilleco è entrato, un disastro, ma non si poteva fare altrimenti, anche perché Salemacres era ammonito e quindi rischiava di essere espuso e poi, esausto, è uscito Brahim Diaz costringendo all'inserimento di tonali e soprattutto allo spostamento in avanti di Frenkesi, che ha fatto molto bene come centrocampista centrale, ha fatto altrettanto bene come trequartista. Leao poi nel finale ci ha regato questo strappo, il migliore della partita. Secondo me, non ci dimentichiamo che Mila aveva fallito il gol del pareggio con un colpo di testa soltanto da spingere dentro di Rade Krunic, che ha sbagliato in questo caso, non è stato providenziale come a Verona. Dicevo, strappo nel finale, molto bello, di Raffaele Leao e poi il calcio d'angolo della providenza, battuto ancora da Krunic con quello che secondo me è stato insieme a Frenkesi il migliore in campo, cioè Simon Chiaer, che dopo aver preso tantissime traverse sui suoi colpi di testa nella partita più importante, nella serata più importante, nella serata storica, come l'ho definita, esultando in telecronica, ha messo dentro questo gol pesantissimo perché fare un gol in trasferta a Old Trafford ti dà una carica in vista della gara di ritorno. L'unico rischio per il Milan è avere già domenica contro il Napoli in testa il ritorno col Manchester United perché questo doppio turno di Europa League sta davvero assumendo i contorni di una sfida storica e in questo momento, incredibilmente, io non l'avrei mai detto, la sfida sta pendendo dalla parte del Milan perché con lo 0-0 a San Siro si passa al turno successivo e il Milan avrebbe in questo caso una carica incredibile per arrivare fino alla finale di Danzica. Stupenda, entusiasmante, serata non da Europa League ma serata da Champions League per cuori veri rossoneri. E dunque è stato veramente un orgoglio, un piacere viverla insieme. Ci rivediamo per la gara di ritorno. Naturalmente vi ricordo sempre, se volete scommettere, se volete ipotizzare i risultati delle altre partite di Europa League o anche del ritorno del Milan, vi conviene seguire sempre i consigli di scommesse.commenterecensioni.com, il nostro partner in tutti i video post partita del Milan. Potete trovare i consigli anche ad hoc su alcune chance tipo i tiri in porta, tipo i calci d'angolo, sul canale YouTube di scommesse.commenterecensioni.com con dei video tutorial dedicati. Vi consiglio di andare a consultare ma soprattutto vi consiglio di godervi questa serata e queste giornate meravigliose perché dopo aver vissuto una settimana europea stupenda per la delusione di alcuni e per la nostra grandissima felicità possiamo davvero dire di aver ritrovato magari non la squadra, magari non la qualità del grande Milan ma sicuramente la mentalità e il famoso DNA europeo del grande Milan. Ciao a tutti, grazie per avermi seguito. Ci rivediamo sempre su Cristiano Luio TV.